Ben trovati a una nuova puntata del telescopio. L'ospite di questa settimana è Giuliana Gualteroni, presidente del Comitato di Sondrio della Croce Rossa italiana. Grazie presidente, benvenuta. Grazie a voi dell'invito e buonasera a voi e a tutti i telespettatori. L'occasione è quella per tracciare un consuntivo dell'attività dello scorso anno, ma anche per guardare quali sono le sfide che anche in questo 2021 vedono impegnata la Croce Rossa di Sondrio. Intanto, presidente, in sintesi per grandi aggregati, quali sono i dati, i numeri che documentano la vostra attività nel 2020? Allora, nel 2020 abbiamo effettuato 43.211 giornate di volontariato, ore e giorni di volontariato e svolto più di 15.000 servizi, percorso più di 360.000 chilometri, divisi sulle varie vari settori di cui poi parliamo magari in dettaglio tra un momento. È stato un anno come tutti gli altri, con gli impegni normali e con in più, chiaramente, l'impegno grosso derivante dalla pandemia. Un anno cruciale, un anno che ci ha visti in prima linea sempre. Il nostro presidente Rocca ha detto che Croce Rossa entrerà di sicuro nei libri di storia per ciò che è riuscita a svolgere e a fare nel momento in cui c'è stato proprio il dramma e il picco, perché le altre associazioni logicamente non potevano più svolgere i loro servizi e siamo rimasti noi con la protezione civile. Ecco, presidente, in particolare sul fronte Covid, cosa ha rappresentato per voi questo impegno così delicato? Penso in particolare forse all'aspetto dell'attività più importante che era quello del trasporto dei malati. Sì, infatti, il primo ambito è stato quello del trasporto sanitario sia verso gli ospedali di chi accusava i sintomi, sia poi invece il ritorno fortunatamente a casa, oltre a sferimento in altri ospedali per chi andava migliorando nel decorso della malattia. È stato un impegno notevole, abbiamo risposto positivamente anche alle richieste di Areo con tre ambulanze aggiuntive, perché quelle che già avevamo, che noi abbiamo dappertutto in Valtellina con il comitato di Morbegno, noi copriamo da Campodolcino a Livigno, la provincia. Però comunque anche Morbegno ha messo un'ambulanza aggiuntiva per poter rispondere a tutte le chiamate che arrivavano e ci siamo riusciti, grazie anche al fatto che sia i dipendenti che i volontari non si sono tirati indietro, soprattutto anche i volontari che avrebbero potuto sospendere il loro servizio, tranne qualche caso giustificato. Si sono offerti di continuare, c'è chi ha anche chiesto al proprio datore di lavoro che hanno mostrato molta comprensione, molta solidarietà, di usufruire dei benefici di legge e quindi hanno per esempio nel mese di marzo sono rimasti operativi presso di noi tutto il mese. Ecco, da questo punto di vista come avete gestito in questo anno la legittima, comprensibile anche paura del contagio tra i vostri operatori, volontari e dipendenti che dietro di sé avevano la preoccupazione delle rispettive famiglie? Ci sono stati alcuni dipendenti, alcuni volontari che si sono messi in mansarda per esempio piuttosto che in un altro locale per mettere al massimo della sicurezza la loro famiglia e per poter comunque appunto continuare a svolgere il servizio in tranquillità. Noi abbiamo da subito tutelato il nostro personale con i dipi necessari, c'è stata anche un'opera di solidarietà tra i vari comitati per riuscire a trovarli perché se vi ricordate è stato anche difficile inizialmente reperirli. Noi per fortuna avevamo delle scorte che teniamo sempre per l'emergenza, Croce Rossa è sempre pronta all'emergenza quindi eravamo operativi e abbiamo avuto sostegno importante di Prova Altellina e poi di Cancro Prima Aiuto che a loro volta sono riusciti a reperire i dpi e a fianco di questo abbiamo attivato anche il canale psicologico. Croce Rossa ha il SEP che è il supporto psicologico, è stato attivato a livello regionale, c'era un numero da chiamare H24 e quando è stato necessario appunto abbiamo invitato le persone a rivolgersi a questo e devo dire che la gestione è stata efficace e poi comunque i nostri operatori sono abituati anche tra di loro alla fine dell'intervento si fa quello che si chiama briefing, debriefing e quindi tra di loro poi già analizzano e già questo serve a gestire lo stress tra virgolette. Ecco Presidente, l'emergenza Covid che cambiamenti ha apportato anche alla gamma dei vostri servizi, alla tipologia delle vostre attività? Che novità avete introdotto? E appunto essendosi fermate le altre attività perché gare praticamente non se ne sono più potute fare noi facciamo tanta assistenza alle manifestazioni e alle manifestazioni sportive e anche alle altre manifestazioni questo non c'era più, però ecco noi ci siamo attivati per quanto riguarda il trasporto sanitario appunto per il trasporto e invece per quanto riguarda gli altri bisogni della popolazione abbiamo attivato quello che è stato chiamato a livello nazionale e anche qui da noi il tempo della gentilezza e quindi abbiamo aiutato tutte le persone che ci hanno chiesto portando la spesa, portando le medicine perché era in quarantena non poteva uscire, portando pasti caldi a tutti gli anziani che erano abituati magari andare al negozio, prendersi il mangiare pronto oppure che era la mensa sociale che ha dovuto chiudere e abbiamo aiutato noi, la mensa sociale ha continuato a preparare i pasti ma li abbiamo distribuiti noi abbiamo aiutato la Coldiretti a tenere il suo mercato tra virgolette perché non era più aperto le ditte raccoglievano gli ordini e noi consegnavamo alle persone quindi abbiamo consentito anche ai nostri coltivatori di continuare a smerciare i loro prodotti insomma una miriade di tanti servizi di questo genere poi naturalmente l'accompagnamento in sicurezza, in ospedale per chi doveva andare a fare visite normali, non Covid ecco, ogni volta che abbiamo ricevuto una chiamata noi siamo riusciti a dire di sì Ha menzionato il supporto psicologico che immagino non fosse una novità diciamo così nel DNA dei vostri operatori ma quanto avete dovuto investire anche a livello di preparazione dei vostri operatori proprio sull'aspetto psicologico affiancato a quello prettamente tecnico e sanitario? Ma hanno avuto degli incontri, avevamo già avuto perché la formazione psicologica comunque c'è da sempre noi abbiamo anche una convenzione con l'associazione psicologi per i popoli con la dottoressa Silvestri e già con lei avevamo fatto degli incontri proprio per gestire eventi di vario tipo e adesso per esempio partirà un corso sul burnout, sulla gestione del burnout quindi i nostri operatori erano già comunque abbastanza sul pezzo e praticamente abbiamo un po' continuato come siamo già abituati a fare per esempio ecco c'era stato un incidente grave al di là del covid in Val Chiavenna e siccome era una persona dei ragazzi che conoscevano bene i nostri operatori sono rimasti scossi giustamente perché li hanno trovati loro e anche lì abbiamo attivato subito la dottoressa Silvestri che è sempre pronta e c'è stato l'aiuto, il supporto psicologico quindi direi che siamo riusciti a gestire bene Sul piano personale e umano quanto l'ha segnata quest'anno di esperienza anche in una persona che di esperienza ne ha? Mi sono aumentate le rughe un po' di ore di insonnia ogni tanto perché comunque la preoccupazione c'era l'impegno erano tanti, veramente tanti e riuscire a stare dietro a tutto è stato impegnativo e poi c'era anche la preoccupazione del bilancio perché fermandosi tutte le nostre entrate però su questo devo proprio dire ancora, l'ho già detto tante volte un grazie Cubitale a tanti cittadini nostri, tanti valtellinesi tante nostre socie che ci hanno supportato con le loro donazioni e poi gli enti che ho citato prima, anche la provincia di Sondrio il comune di Sondrio e appunto Pro Valtellina che ha anche il primo aiuto che ci hanno aiutato veramente tanto per cui almeno quella preoccupazione l'abbiamo superata e certo sono stata impegnata tanto anch'io praticamente tutti i giorni infatti mio marito scherzando un giorno mi ha chiesto se non avevo una croce rossina da mandargli al posto mio Senta, la Croce Rossa ha svolto anche un ruolo importante sul fronte prettamente sociale in aiuto soprattutto alle fasce fragili della popolazione gli anziani o quelli in condizione di maggiore indigenza anche questo è stato un fronte delicato Sì, 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 che si è aggravato con la pandemia perché sì, Croce Rossa non è solo ambulanza è appunto anche tanto sociale che riusciamo a svolgere anche qui con tanti aiuti che ci giungono poi con la convenzione che abbiamo col Banco Alimentare e purtroppo i numeri sono aumentati a dicembre 2019 avevamo 410 persone tra adulti e minorenni a cui davamo il pacco viveri adesso siamo arrivati a 700 quindi praticamente in un anno sono quasi raddoppiati però anche qui tanti che ci aiutano c'è il carrello solidale in alcuni supermercati poi adesso le parrocchie per la quaresima hanno lanciato questa iniziativa di portare il pacco di pasta piuttosto che il litro di latte ai ragazzi che frequentano l'oratorio e stanno arrivando le offerte quindi noi anche su questo riusciamo a soddisfare il bisogno che ci viene segnalato dagli uffici di piano e adesso ci sono anche i nostri valtellinesi che purtroppo cominciano a andare in difficoltà magari i lavoratori stagionali che appunto non hanno più lavoro e hanno finito anche l'indenità di disoccupazione piccoli artigiani anche quelli sono rimasti con un lavoro molto ridotto o chiuso e quindi sì noi però stiamo aiutando vi ha sorpreso un pochino l'emergere l'affiorare magari in espresso o espresso tradizionalmente sempre con molto pudore di queste forme di fragilità di povertà economica anche di povertà relazionale di solitudine sì e abbiamo scoperto tanti casi anche col tempo della gentilezza portando a casa farmaci o il pasto caldo o la spesa abbiamo avuto modo di constatare che purtroppo anche qui da noi c'è tanta solitudine soprattutto negli anziani in anziani o anche in altri casi e ecco siamo contenti di aver potuto conoscere queste persone infatti abbiamo continuato il rapporto nel tempo continua tuttora e ci chiamano i nostri angeli anche solo col telefono alla telefonata perché magari adesso non hanno più bisogno perché possono uscire possono fare la spesa però il contatto per loro è importante e sì è stata una cosa che ci ha anche sorpreso perché non pensavamo di trovare abbastanza un numero così abbastanza discreto di situazioni di fragilità Presidente dal suo punto di osservazione e di azione diciamo e di intervento la società valtellinese in questo frangente di fronte all'emergenza sanitaria del covid ha mostrato più fragilità o più punti di forza come ne esce? è stato un po' alterno poi alla fine pian piano la gente si è adattata all'inizio c'è stata anche tanta paura soprattutto negli anziani giustificatissima chiaramente ma anche in altre in altre persone e tutti eravamo un po' intimoriti questa cosa ci ha proprio sorpreso comunque tutti non eravamo abituati a una pandemia di queste proporzioni però dopo pian pianino si è creata anche tanta rete anche quei casi appunto che ho detto prima poi però si emergeva anche magari in una rete del condominio che comunque supportava la persona oppure nei paesi nella contrada ecco adesso le persone cominciano a essere un po' stanche però incontro varie persone che mi dicono non ne posso più però si resiste siamo valtellinesi siamo montanari è il momento di tener duro a proposito di rete invece lo ha già detto in parte la rete sia tra le realtà del non profit del volontariato e quelle istituzionali come ha funzionato? direi che abbiamo il modello valtellina che io ho esportato a Milano in varie riunioni che abbiamo fatto tra presidenti di comitato o in altre anche in altre città e rimangono tutti meravigliati di come qui si sia riusciti sempre da subito ad operare in rete in sinergia anche prima della pandemia e poi chiaramente con la pandemia si è rafforzato perché qui da noi non c'è si è riusciti a superare il discorso dell'orticello che ognuno ha il suo orticello da coltivare invece no si è capito che se ci si mette in squadra ci si mette insieme si ottengono maggiori risultati e quindi c'è un ottimo rapporto sia con le istituzioni che sono molto attente molto sensibili dalla prefettura alla provincia ai comuni sia con le altre associazioni che sono tante la valtellina ne ha tantissime ma davvero si lavora bene insieme fate fatica a reclutare nuovi volontari com'è la situazione? è stato un po' alterno come per tutte le associazioni di volontariato il volontariato è un impegno e il croce rossa è un impegno particolare chiaramente soprattutto se poi uno va sul versante sanitario e richiede anche tante ore di formazione però devo dire che comunque teniamo bene e con la pandemia adesso sono aumentati invece forse il vedere quello che facciamo quello che ecco un risvolto positivo della pandemia è che vari ragazzi poi ci hanno contattato adesso abbiamo avviato abbiamo già ultimato due corsi l'anno scorso e stanno proseguendo con i vari step e adesso abbiamo attivato un altro corso base per nuovi volontari e sono quasi 100 quindi siamo molto contenti qual è la prima dote che deve avere un bravo croce rossino o croce rossina quando fate un primo colloquio conoscitivo con un aspirante volontario cosa cercate di individuare vedere subito se ha umanità umanità capacità di ascolto sensibilità queste sono l'umanità è anche uno dei nostri sette principi e appunto poi anche il saper ascoltare il porsi bene con le altre persone sono tutte persone in situazioni di fragilità quindi devi avere un contatto particolare molta delicatezza e poi questo desiderio di spendersi per gli altri il desiderio noi siamo abbiamo il motto un'Italia che aiuta e appunto questo voler aiutare gli altri e la disponibilità a dare del proprio tempo per aiutare gli altri in maniera assolutamente gratuita e con passione perché ci vuole anche tanta passione e vorrei ricordare qui il Sergio Sergio Bonvini che è stato per noi un grande maestro e lui parlava sempre ai nuovi volontari faceva un discorso etico proprio forte che rimaneva questo ci manca un po' grande figura Sergio Bonvini storico militante e dirigente della Croce Rossa di Sonia mi piace ricordare quello che mi diceva poco prima di iniziare la registrazione proprio per fare un esempio che dà la testimonianza dell'impegno della prontezza della disponibilità quando nei giorni scorsi si è trattato di trasferire per un trasferimento secondario una paziente da Sondrio a Milano di sera al Niguarda non sono mancati due Croce Rossini ho trovato subito due bravissimi volontari uno era appena rientrato dal lavoro e mi hanno detto dammi mezz'ora di tempo che metto la divisa arrivo ecco il bello della Croce Rossa è questo siamo proprio una famiglia di tante tante belle persone che sono molto molto disponibili infatti anche questi mi hanno detto subito di sì e sono arrivati stanotte all'una e un quarto e oggi sono tornati al lavoro quindi sono tanti casi così si verificano Presidente per la Croce Rossa di Sondrio che novità sono in arrivo per questo 2020 per il 2021 abbiamo avuto il rinnovo delle convenzioni di Conareo quindi riusciamo a confermare la nostra presenza sul territorio provinciale insieme a Morbigno e per noi in particolare la costruzione della nuova sede il comune ha avviato tutte le procedure so che sono state invitate mandate le lettere d'invito alle ditte e quindi noi confidiamo di partire a breve due mesi tre mesi adesso non lo so con la costruzione della nuova sede che ci permetterà di essere ancora più efficienti nel nostro lavoro perché adesso dobbiamo dislocare alcuni mezzi in altri posti invece avremo tutto qua riunito questo migliorerà l'efficienza del servizio è partita la campagna del vaccino anti-covid come state vivendo questa fase come siete coinvolti il vostro personale immagino è già stato in buona parte sottoposto sì sì certo naturalmente c'è stata l'adesione facciamo anche campagna di convincimento quando ci fermano e abbiamo dato anche la disponibilità a dare una mano infatti per esempio al comune di Tirano stiamo aiutando noi con i nostri volontari nelle giornate di vaccinazione e abbiamo dato anche la disponibilità al trasporto gratuito di anziani che avessero bisogno quando li chiameranno basta chiamarci e noi li portiamo a vaccinarsi il vaccino è importante per uscire da questa cosa bene grazie Giuliana Gualteroni presidente della Croce Rossa di Sondrio buon lavoro a lei e a tutti i suoi collaboratori grazie grazie ancora anche a voi per l'indito grazie a voi per averci seguito alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti